Pesaro scalda i motori in vista del 2024 quando diventerà capitale italiana della cultura e intanto nel lungo weekend di Pasqua attira turisti e visitatori. Più 20% le presenze registrate in città rispetto all'anno precedente con l'80% di alberghi aperti. Un dato più che positivo che conferma il crescente interesse verso la città di Rossini. C'era una tendenza già registrata e che in parte abbiamo visto un po' che con l'effetto anticipazione dell'anno scorso sul tema capitale 24 e che si è confermata la prima grande occasione di ferie e di vacanze a primaverini. È stata premiata anche la fiducia e la scommessa su una città che può offrire nel giro di pochi metri dalla passeggiata al mare a quella all'interno dei musei, quindi si andava un po' sul sicuro. Detto questo, sì, un dato importante, un 20% in più rispetto all'anno scorso, che fu già una buona ripresa degli alberghi, ma a questo va aggiunto ovviamente anche tutto il diffuso di appartamenti, di bed and breakfast, di realtà insomma che sono parte della retta di raccoglienza ormai da diverso tempo. A decretare l'alto indice di gradimento della città, un mix di cultura e sport con l'apertura dei musei e il torneo di basket giovanile. E su questa scia si inseriscono anche i prossimi appuntamenti, tra cui la mostra alla pescheria sulla storia del basket e quella sul Lucio Dalla. Continueremo a puntare sul basket avendo una mostra importantissima, la più grande mai fatta fuori dagli Stati Uniti, che inaugurerà il 22 aprile, sabato, in pescheria, nel luogo dell'arte contemporanea, sulla storia del basket. E quindi diciamo su questa puntiamo molto per un pubblico anche diverso, che incontra un luogo del contemporaneo a partire dello sport e proprio in quel luogo subito dopo a fine giugno inaugurerà la mostra, una grandissima mostra sul Lucio Dalla, che è quella che sta girando ora tra Bologna, l'Arafacis di Roma, il Man di Napoli, e racconterà molto Lucio Dalla e il nostro territorio, Pesaro, Rubino, Le Marche. E su questa è sempre una pescheria. Puntiamo molto perché poi abbiamo anche la vocazione di città della musica, anche oltre a Rossini, da far valere. E poi sì, ovviamente Rossini per Festival, che è l'elemento più appeso, che quest'anno con due nuove produzioni su tre è un'opera mai rappresentata, e quindi crediamo che sarà un bel legame tra il pubblico italiano, nazionale e quello straniero, che in genere è attorno al 65%, quindi è un dato altissimo, e che aspettiamo ora finalmente terminate le restrizioni, soprattutto per Stati Uniti e Giappone, che sono il nostro quarto e quinto pubblico.